Milos, si respira aria di Champions League, arriva la partita con Danzig, una partita già fondamentale in ottica qualificazione. Sì, rispettiamo tutti questa partita molto attenti perché questa è una partita che sarà molto impegnativa per noi. Sappiamo che loro sono il nostro girone, una delle squadre che può dare più fastidio, così dobbiamo prepararci molto bene qua a Modena e sicuramente cercare un buon risultato e trovare una vittoria importante per noi. Champions League che torna al Palapanini dopo tanti anni, che cosa ti aspetti dal pubblico? Aspetto come sempre, il pubblico fino adesso è stato in gamba molto vicino. È stato molto vicino a noi, ha dato il supporto che ci portava ad arrivare a vittorie più facili, così aspettiamo anche la Champions League contro la squadra polacca che ci dà una mano e sicuramente con loro sarà molto più facile come è stato fino adesso. Una settimana di grandi appuntamenti, la Champions League e poi la trasferta a Trento, come la state affrontando in palestra? Adesso arrivano le settimane un po' più impegnative, abbiamo questa Champions, dopo andiamo a Trento che sarà sicuramente un test vero per noi fino adesso che non abbiamo incontrato così squadre forti e sarà sicuramente impegnativa anche lì, ma dobbiamo prima pensare di quella di Champions e poi piano piano prepariamo anche la partita contro di Trento. Quali stati i tuoi problemi?